Eccolo! Campioni, ultimo vlog da Abu Dhabi e oggi è successo di tutto. Spoiler! Matilde mi ha anche minacciato di... Promete è finita in questo receso istante. Ma ho una domanda che mi pervade la testa da giorni. Ma la mia domanda è, non ci sono cacche nei prati perché io in realtà ancora qui, siamo qua da una settimana e non ho ancora visto un cane. Avete mai visto un robot che ti fa un gelato? Proviamo! Hi! Hello! A due dai, facciamo una per uno. Vediamo il gusto. Quanti gusti! Uh, vai! Aggiungiamo gli M&M's. Ok, ora ho pagato, vediamo cosa succede. No, vabbè, sto volando. Wow! Ok, una pallina è andata. Ho sciacquato la palettina. Ora vado a questa parte dove ci sono gli altri busti. Apre la porticina. Mamma mia, è potente, eh! Olè! E abbiamo la seconda pallina. Prego che se ne ha mosso un altro. Che stava accendo? Ha preso il mio gelato. Dove vai? A togli! Ah, va a mettere i topping. Pazzesco! È il futuro. Questo è il futuro, ragazzi. Questo è il futuro. E ora? Ce lo serve qui? Opla! Wow! Ah, anche suonato! Anche suonato il campanellino! Prendiamo il nostro cucchiaino e i nostri tavaglioli. Ragazzi, è assurdo dirlo, ma... È veramente buono. È squisito. È buono! Ecco gli occhi. Pazzesco! È ancora più pazzesco, però... Eh? La tunica! Qua per attraversare le strisce pedonali ti devi prenotare. E qua c'è un pulsante touch screen. Siamo qua da 10 minuti, ancora niente, però... Bellissimo, è bello, proprio bianco. Ma da qua si vede molto meglio, io da qua al fresco. Vuoi sapere, amici, che io non sono uno tanto da musei, visite, guidate... Queste cose qua, io voglio fare experience. Non si vuole acculturare. Vedi, anche lui lo dice, che è come qua. Mamma mia! L'ho preso lo spavento qua! Michael Jordan! Michael Jordan! I love you! I love you! Mettono cipolle piccanti in tutti i piatti, a me non piacciono le cipolle piccante. Eccolo! Ragazzi, per la prima volta nella mia vita mi trovo a una fiera internazionale. Sono al Comic Con di Abu Dhabi. Eccolo, qua mi stanno anche scattando delle foto. Qua è il mondo delle action film, non c'è niente da dire. Guardate qui che roba. Bellissime! Mamma mia! Attenzione perché qua abbiamo lo spettacolo. Dove è il matrimonio? Ma chi? No! Ma dite si vergogna. Dai, vediamo una foto con Joker. Dai! E qua, vediamo una foto con Joker. E qua abbiamo la Patmobile! Guarda qui! Mamma mia ragazzi, è potentissima! Ragazzi, appena è successa una cosa bruttissima, sto per mettermi a piangere. Ho visto una felpa qui, queste qua sono tutte fatte a mano. Nel momento in cui la stavo per prendere, un signore l'ha presa e l'ha comprata. Il problema è che sono pezzi unici. In questo momento la sta portando via, vedete? È dentro quel sacchetto. Sei un bimbo cattivo, sei. Ecco che se ne va a fiero, facendo finta di niente. Perché ce l'avevo letteralmente in mano. Ce l'avevo letteralmente in mano, ce l'avevo qua che la guardavo. Guardate quanto sono belle. Ne devo assolutamente prendere una. Qui abbiamo un set di spade. Io una di queste ce l'ho a casa. Ho una di One Piece, me l'ha regalata ai miei zii. Siamo appena entrati in un Japanese village. Io vorrei dire che si impegnano proprio. Sì, è strabella questa fiera ragazzi. Hai! Mattino mi ha appena distrutto il sogno, non mi ha fatto scatare la foto con una ragazza anime. Non so per quale motivo. Lo sappiamo tutte e due. Giuseppe mi sta portando alla ricerca della sua ragazza anime. No, la troveremo. Ragazzi, Mattino è arrabbiata con me perché io amo gli anime, amo le cosplayer, voglio farci una foto, ma lei non vuole. Non è tu! Le! Chi sa come vai, eh? No, no. Vai, vai. No, è arrabbiata davvero ragazzi. Guarda, ma va come fa! Sorrisino, eh? Fa il provolore, eh! Non sentire l'audio sotto questo video. Tra me te è finita in questo reciso istante. No, scherzo. Tentiamo la fortuna e giriamo la ruota. Giri tu o giro io? Giro io o giro tu. Ok. Non so fortunata. Ho appena vinto una tazza alla ruota della fortuna, quelle idee, eccola. Io la penino. Eccola. E qui abbiamo il backspane, backspane. Hallò! Mamma mia, voilà quei ore. Torno bambino in un attimo. Sto per sentirmi male qui. Come fai a non piangere guardando queste cose? Mamma mia. Questa è la custom della PS5, la tarra è molto tenera. Ci hanno appena dato questa PlayStation 5 per fare una partita. Amore, c'è lì il personaggio. This is the path of my destiny. Mamma mia. Attenzione. Non vedevo niente con le ciglia pinte. Però ne hai presi. Oh, sì, avrei guadagnato un pozzo di soldi. Capeone, alla fine ho preso questa qui, fatta interamente a mano, quindi pezzo unico al mondo, ce l'ho solo io. Con i taci. Eccola. Bellissima. Guardate qua i dettagli. Ho preso questo bel panino zozzone. Grazie a tutti.